In qualche modo tu pensi di aver deluso papà quando non ce l'hai fatta ad arrivare a quella squadra? No, questo sicuramente è stato il primo vero contrasto, tra virgolette, perché lui cercava di farmi capire l'opportunità che avevo, ma io sai a quell'età uno non è maturo, non riesce a capire, e quindi mi dava contro e io non capivo, e di conseguenza sì, è stato il primo vero confronto con lui e sì, è una cosa che mi porto dentro da sempre. Mi fai una promessa Paolo? Sì. Quando esci dalla casa, gli dai un bacio subito subito? Ma certo, che gli Rodolfo non so assolutamente. Senti, adesso ti faccio vedere perché da fuori c'è qualcuno che fa il tifo per te, guarda questa foto. Ma che foto è? È la foto del papà che ti guarda sempre, guarda sempre, è incollato, ha fatto di recente una bella intervista dove ha detto ragazzi salvatemi, non riesco a scollarmi dalla diretta del grande fratello, ti guarda tutti i giorni e a tutte le ore. Grazie. 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 Grazie.